Scusate se interrotto il video, allora stavo dicendo che il modulo è molto leggero, estivo, spero di essere stata chiara nei passaggi, eventualmente potete contattarmi, nell'info box metterò la mia pagina facebook, la mia mail e se avete bisogno potete contattarmi. E fatemi sapere se vi interessa il tutorial di questo modulino qua, ecco, magari il tutorial sarà un po' più lungo però è un altro tipo di incastonatura questa, ecco mi piace sperimentare. Ciao ragazze vado a prendere il bimbo all'asilo, ciao ciao!